ben ritrovati amici di tecnologiasumisura.net un saluto da Alessandro e benvenuti a questo secondo video della serie come scegliere l'hardware in cui ci proponiamo di fornirvi gli strumenti utili per analizzare in modo critico i fattori che influenzano la scelta di un modello di scheda madre innanzitutto come già detto nel corso della puntata precedente una scheda madre va acquistata in base al processore scelto in modo tale che vi sia una corrispondenza bionivoca tra il formato del processore e appunto il socket della scheda madre questa compatibilità si può verificare osservando tra le caratteristiche di entrambi il nome del socket deve combaciare inoltre bisogna fare attenzione che il chipset della scheda madre ci consenta di sfruttare tutte le funzionalità di cui necessitiamo come l'utilizzo di dischi in ride grafica integrata eccetera ad esempio se acquistassimo un processore i5 3570k ma ci basassimo su un chipset h77 non avremo alcuna possibilità di overclock partiamo con un po di teoria la scheda madre non è altro che un circuito in grado di stabilire la comunicazione tra tutto l'hardware presente nel nostro computer compito della scheda madre consiste anche nel permetterci di interfacciarci tramite software il bios o wifi con le impostazioni dell'hardware un esempio fra tutti effettuare l'overclock del processore e della ram i vari componenti hardware comunicano tra loro tramite una serie di canali e segnali elettrici definiti come bus ogni bus è definito da una propria larghezza di banda ovvero dal flusso di dati che riesce a trasmettere per unità di tempo ogni scheda madre gestisce diversi bus più o meno veloci e performanti per fare qualche esempio possiamo citare usb pci sata e pci express il chipset costituisce la parte dei circuiti di una scheda madre adibita a controllare e dirigere il traffico di informazioni passante per i vari bus attualmente le schede madri scindono il chipset in due parti logiche dette north bridge e south bridge mentre il north bridge gestisce la comunicazione con i dispositivi ad alta velocità quali cpu ram e pci express il south bridge al contrario comunica con dispositivi lenti come usb pci sata eccetera ora analizziamo più da vicino come fatta una scheda madre osservando le principali porte e connessioni disponibili partiamo dal pannello input output è l'unica zona della scheda madre accessibile dall'esterno del case e come ricorda il nome stesso permette la connessione con tutti i vari dispositivi esterni di input e di output come monitor stampanti tastiere casse eccetera più la scheda madre prestante più questa zona sarà ricca di porte e collegamenti poi abbiamo il socket processore la zona in cui deve essere adagiato il processore da segnalare l'univocità del verso di inserimento del processore poi abbiamo lo slot ram che è la zona di bit al collegamento dei moduli di memoria anche in questo caso bisogna prestare attenzione che il tipo di scheda ram sia compatibile con la scheda madre se una scheda madre è progettata per lavorare con ddr3 non potrà mai essere compatibile ovviamente con schede ddr2 poi abbiamo le porte pci express dedicata al collegamento con la scheda video il numero totale di queste porte indica il numero massimo di schede video che possono lavorare in sinergia per offrire prestazioni grafiche superiori rispetto a una singola scheda di pari livello poi abbiamo le porte pci dedicata al collegamento con schede di espansione varie potrebbero essere schede wifi di acquisizione video eccetera quindi porte sata porte per il collegamento di lettori dischi e hard disk e prese di alimentazione a cui devono essere collegati gli appositi cavi dell'alimentatore in particolare i cavi da 24 e 8 pin in modo da formare il giusto quantitativo di energia alla scheda di memoria del processore per quanto riguarda i formati della scheda madre più comuni per pc desktop sono in ordine di grandezza crescente mini itx poi abbiamo micro atx poi atx ed infine e atx naturalmente più una scheda è grande più saranno ampie le possibilità di future espansioni quando si sceglie un case è importante leggere tra le sue specifiche tecniche che questo sia compatibile con lo standard di dimensione della scheda scelta dunque riassumendo abbiamo detto che la scelta di una scheda madre è condizionata dalla scelta del processore perciò in primo luogo bisogna fare in modo che i due siano compatibili in secondo luogo se nostra intenzione fare overclock oltre a verificare che il chipset lo consenta è necessario fare attenzione che la scheda abbia un alto valore di fase di alimentazione della cpu e per conoscerlo basta leggere le specifiche tecniche della scheda questo parametro consentirà di raggiungere frequenze alte e stabili un terzo fattore che determina la scelta di una scheda madre è costituito dall'espandibilità è importante sapere sia quanti gigabyte di ram potremo montare sia quante schede video e schede di espansione per esempio se si volessero montare due schede video bisognerebbe disporre di due slot pci express discorso analogo vale per la connettività e per il pannello input output è importante che siano presenti tutte le interfacce necessarie alle proprie esigenze firewire usb 3.0 e sata eccetera in generale i produttori di schede madre più famosi sono asus as rock gigabyte e vga e msi quando si sceglie un modello specifico è sempre bene documentarsi il più possibile sfogliando le recensioni di siti autorevoli tra quelli italiani possiamo citare toms hardware punto it extreme hardware e next hardware attualmente come scheda dal buon rapporto qualità prezzo possiamo citare la as rock z77 extreme 4 compatibile con tutti i processori ivy e sandy bridge per socket lga 1155 se invece si vuole possedere un modello da top gamma citiamo per socket lga 1155 asus maximum extreme 5 e per socket lga 2011 asus rampage 4 per questa nuova puntata è tutto un saluto a tutti gli amici di tecnologia su misura